Il premio Pilot Medium con Femmini Disney 3 anni al via, la chiusura delle ali con Rondine Jet che va facilissima davanti, parte bene Riviera S dalla seconda fila e l'allieva di Piero Bezzecchi riesce a conquistare la corda andando nella scena del leader. Rimane scoperto Roulette B, anche lei veloce da dietro, sarà importante vedere anche le scelte dei guidatori come sempre in pista da 800, 15, 2 a frazione, l'allungo di Pistone. Numero 5 Raffica Holtz squalificato. Non fa si avvicinare, è andato a tabellone il numero 5 di Raffica Holtz, Greppi prende in mano e cerca di parcheggiare nella scia dei primi due, lo fa davanti a Reims Kronos, frazione in 15, 2. E' rimasto scoperto in fondo al drappello per Oru Giadax che prova una risalita esterna, trova l'anticipo di Reims Kronos, la frazione lenta di Rondine Jet al comando, 17, 1 per la seconda curva, gruppo che si ricompatta parecchio, si è formata una seconda colonna esterna. E adesso c'è Reims Kronos che va lungo su, anzi lunga, su Rondine Jet, 15, 7 in riallungo al completamento dei primi otto di gara. Rondine Jet in vantaggio, seguita nella scia da Riviera S che si trascina a Roulette B, frazione in 15, 8, richiesta al largo Ruggiada-Axe, che sembra non progredire, poi sbaglia, la lieva di Trevellin, nel tentativo di mantenere la scia di Reims Kronos. Ruggiada-Axe squalificato. L'ultima curva, frazione in 15, 2, prende una virgola di paletto intermedio e sempre Rondine Jet al comando, con Reims Kronos di fuori, Roulette B ha lasciato la corda per provare a fare l'arrivo in terza ruota, anticipando Regina Oz, 15 secco di frazione. In vantaggio Rondine Jet che però è un po' in crisi ed è pesantemente richiesta da Peppe Pistone, si è buttato all'interno Regina Oz, nel tratto conclusivo Rondine mantiene con un colpo d'ala, possiamo dire, il vantaggio sul traguardo, 1, 16, 6. All'interno c'è Regina Oz, di fuori ancora una grintosissima Reims Kronos, più a largo ancora veniva Rania Ox, ci sarà da rivedere comunque 1, 16, 6 il tempo della vincitrice al chilometro. Rondine Jet con Giuseppe Pistone per il training di Vincenzo Tufano e i colori del team Tognatti. Andiamo a vedere il replay della retta d'arrivo per confermare all'interno il 6 di Regina Oz al secondo posto e poi il 3 di Reims Kronos che regge Roulette B.